Sì, sono riusciti Mmmmm BOOOOO FASHION IN SOTO STATION Ciao io sono il prossimo video video di Night è questo? E io sono un nuovo autista e questo è FASHION IN SOTO STATION Che pranzi Ma guardiamo le biri della scarova Sommersi, la faccia, la cucina La merose ilếnica La membre è nuova E' morta L'escrizione della persona Mi viene nel contrarre E' n wirà trovare un malemato E' frapper E' n прос Tingentsitta Maאתà non è utilizzare E così E questo Èega Accelerazione! Ciao a tutti, potete Drummer parte 2 e io sono San Zerese. Tre, due, uno! Nooo! Nooo! Eee, taj beee! È picante! Oh no! È picante! Ah! Provo, avanti! È solo picante! È! È solo form! È solo form! Vai, ci provo, ci provo! È picante! È picante! È picante! È picante! Grazie per la visione!